Il primo progetto è Ortopedia 3D. Quindi possiamo considerare la maratona aperta in bocca al lupo a Ortopedia 3D. Buongiorno a tutti, io sono Lelio Leoncini, sono un medico, sono specialista in medicina fisica, svolgo la libera professione. Da sempre affianco alla mia professione la tecnologia nell'intento di superare le barriere che il trattamento tradizionale pone. Il problema che attualmente affrontiamo è la scoliosi. Prima di parlare del nostro progetto è necessaria una rapida rappresentazione di come avviene la lavorazione classica finalizzata alla realizzazione di un corsetto ortopedico. Avviene attraverso un'acquisizione con calco in gesso. Come vedete due tecnici devono bendare il soggetto con delle bende gessate inumidite, attendere che si asciughi e poi si ottiene un guscio negativo all'interno del quale sarà posto del gesso che il nostro bravo tecnico dovrà modellare a mano. Successivamente c'è la fase di termoformatura. Ovviamente per fare questo i locali di un'officina ortopedica hanno la necessità di munirsi di locali doni tipo una sala gessi e una doccia. La soluzione che noi proponiamo la possiamo intravedere in questo flowchart. Abbiamo un'acquisizione con dei sensori a infrarossi, una modellazione con software CAD e poi la produzione che attualmente effettuiamo con una macchina a controllo numerico. Mentre stiamo lavorando siamo quasi pronti per stampare in 3D i busti. Il sistema che proponiamo è fatto di sensori infrarossi nell'immagine a destra in alto che si muovono lungo una guida lineare. Sono quattro sensori interpolati tra di loro a costituire un ring e quindi si inquadra il soggetto attraverso il monitor e quindi è possibile effettuare la scansione in un quarto di secondo come fosse quasi una macchina fotografica. Nei riquadri che vedete qui ci sono alcuni degli esempi che ci consentono di modellare meglio. In questa maniera rendiamo il sistema più semplice e quindi più efficace. Più semplice è, minore è il margine d'errore. Dopodiché il file opportunamente modellato viene fresato con una macchina a controllo numerico. La prima che vedete qui è la prima che abbiamo costruito, è una fresa classica mentre la seconda che abbiamo costruito è una fresa con un disco circolare che riduce di mezza i tempi di realizzazione del CAD. Poi ovviamente la fase successiva è quella della termoformatura che è uguale al processo tradizionale. In sintesi i vantaggi sono il basso costo dei sistemi di acquisizione, la possibilità di un'acquisizione simultanea, istantanea, non dimentichiamo che si tratta di bambini, gli spazi ridotti, un ring occupa due metri per due metri, una maggiore accuratezza con la possibilità di controllare anche meglio le spinte digitalmente. Questo si traduce in una migliore compliance, busto paziente. Il tempo di modellazione è 30 minuti, ma soprattutto la cosa più importante è che non utilizziamo gesso, pertanto si evita lo smaltimento del gesso. Quindi si passa da un aumento della produttività. Con il metodo classico un tecnico può fare un solo busto al giorno, mentre con il nostro metodo è possibile effettuare 10 corsetti al giorno. Ma questo è un sistema di acquisizione pronto per il presente, ma immediatamente pronto per il futuro, attraverso la stampa 3D. Noi abbiamo già fatto degli studi biomeccanici dei nostri corsetti, li abbiamo sottoposti a dei crash test e si stanno rivelando molto efficaci. Attualmente stiamo testando tre tipi di filamenti. Ai vantaggi precedentemente descritti del CAD CAM aggiungiamo gli ulteriori vantaggi con il sistema stampa 3D. Non abbiamo nessun materiale di scarto, in quanto successivamente il corsetto potrà essere tritato e riciclato nuovamente. Possibilità di effettuare delle modellazioni successive attraverso una pistola termica, il peso notevolmente ridotto, i costi notevolmente ridotti, eliminiamo le armature e ovviamente il manufatto è esteticamente migliore e traspirante. I nostri competitor sono costosi, richiedono dei tempi di acquisizione lunghi, imprecisi e ovviamente hanno difficoltà se il soggetto è in movimento. Bene, ora mi tocca passare la parola a Roberto che vi parlerà dell'aspetto business. Allora, noi abbiamo definito il modello di business in tre fasi. Ci sarà la prima fase di vendita del sistema di acquisizione del ring, poi formeremo gli operatori sia nell'acquisizione che nella moledellazione in campo medico e poi attiveremo dei service sia per lo sviluppo del CACAM e successivamente in stampa 3D. Abbiamo valutato solo per il mercato italiano 4.000 potenziali clienti, tra officine, medici e medici specialistici. Il mondo è da vedere poi insieme agli investitori la parte tecnica. Già da Expo abbiamo avuto un primo test sul mercato. Expo Sanità insieme a Wasp abbiamo avuto già 20 prenotazioni. Quindi c'è stato un buon ritorno. La roadmap, come vedete, è lunga. Abbiamo sperimentato tanto e adesso siamo sicuri che il sistema funziona. Pertanto siamo pronti entro dicembre 2016 a partire con la produzione. Entro dicembre 2017 a piazzare almeno 50, formare la gente e attivare i service, fino ad arrivare a 2017 con la ventia di 150. Siamo andati proprio al ribasso. Però stiamo già lavorando, tutto il lavoro che c'è stato fatto, stiamo già lavorando per il futuro. Infatti vedete qua ci sono tutta una serie di servizi che si possono fare attraverso la scansione, fino ad arrivare all'ultimo in cui stiamo facendo un progetto sulla Telefotogrammetria in cui arriveremo proprio a creare delle protesi realistiche con il silicone. Chiediamo 150.000 euro per poter attivare ricerca, sviluppo e marketing. Siamo un gruppo di professionisti che lavora comunque tra ingegneri. e questo è il video. Si può andare? Magari recuperano... C'è qualcosa in background? Qui potete vedere praticamente la scansione della modella, i sensori, i quattro sensori interpolati, la modellazione e perfino poi la stampa del busto in 3D. Peccato che non c'è l'auto. E qui potete vedere la modella con il busto che viene indossato. E' comodo, traspirante. Abbiamo finito i sette minuti, possiamo chiedere se avete già un gruppo di lavoro o un'azienda? E' un gruppo di lavoro e di ricerca. Così l'azienda deve ancora essere fondata. E questi due elementi che avete portato, forse li alzate e fateci vedere cosa sono? Questi sono i busti stampati in 3D, che attualmente stiamo lavorando. Ma il sistema è già pronto per essere utilizzato con il sistema CAD CAM. Quando sarà pronto il filamento potremo finalmente stampare in 3D. e quindi con dei ulteriori vantaggi. Grazie. A voi. Grazie. 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 Grazie.